Un incendio divampato questa mattina poco prima delle 11 in piazza Carlo Felice davanti alla stazione Porta Nuova a Torino. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel domare a spegnere il rogo, mentre le agenti di polizia municipale stanno delimitando la zona. Una grossa colonna di fumo si è alzata in cielo, evacuate alcune persone. Sul posto stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco, tre autoscale e il carro autoprotettori, operazioni coordinate dal funzionario di servizio. Grazie per la visione!